San Giovanni Paolo II, dalla finestra del cielo, benedici tutti noi. Benedici la Chiesa che tu hai amato, servito e guidato, spingendola coraggiosamente sulle vie del mondo per portare Gesù a tutti e tutti a Gesù. Benedici i giovani che sono stati la tua grande passione, riportali a sognare, a guardare in alto per trovare la luce che allumina i sentieri della vita qua giù. Benedici le famiglie, ogni famiglia. Tu hai avvertito l'assalto di Satana contro questa preziosa scintilla di cielo che Dio ha acceso sulla terra. Giovanni Paolo, con la tua preghiera proteggi la famiglia. Prega per il mondo intero, ancora segnato da tensioni, da guerre e da ingiustizie. Tu hai combattuto la guerra invocando il dialogo e seminando l'amore. Prega per noi, affinché siamo instancabili seminatori di pace. O San Giovanni Paolo II, dalla finestra del cielo, fa scendere su tutti noi la benedizione di Dio. Amen.